Narat, 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 narati cari fratelli, continuerò ad essere vicino con la preghiera, narat, 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 specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente dolci le azioni dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, il nuovo Papa, il nuovo Papa, il nuovo Papa, il nuovo Papa, i signori vi mosti, i signori vi mosti, i signori vi mosti, i signori vi mosti, bella, 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 che voluto da lui e trai, 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 oi trai che le cose che ne senti e trai, 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 e trai E tutto questo come affetto e riconoscenza vi imparto di cuore, la benedizione va a costruire 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 il nuovo Papa 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 benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus e spiritus sanctus